Nella celebrazione della Santa Messa, dopo la prima parte, ascolto della parola di Dio, il sacerdote offre il pane e il vino, che diventeranno corpo e sangue di Cristo. I fedeli si uniscono cantando, salga da quest'altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Signore, ti spiega in torri i nostri terreni obercosi, mentre le vigne decori di grappoli gustuti. Salta da quest'altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo. Per i tuoi doni largiti, te padre ringraziamo. Salta da quest'altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Noi siamo il divino frumento, i tralci dell'unica vita, dal tuo celeste alimento, e il pane di vita e il pane di vita e il sangue salutare. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Amo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.